Siamo alla concessionaria Robis Garage di Treviolo in compagnia di Stefano Bonetti, pilota bergamasco originario dell'Aro Silvino. Stefano, raccontaci la tua stagione 2020. La stagione 2020 è stata un po' modificata dai miei soliti gare. Purtroppo le gare su strada, isole di mane, così sono state cancellate e allora ho ripiegato sulle velocità in salita. Alla fine è andato piuttosto bene il campionato, ho vinto sia italiano che europeo nella categoria Superbike e il campionato europeo nella categoria vintage e buca 1000. Oggi da Robis Garage ritiri ufficialmente la tua nuova Aprilia RS 660. In quale campionato l'autorizzerai quest'anno? Allora con l'Aprilia stiamo aspettando un po' tutti i vari campionati se vengono confermati. Teoricamente con questa si dovrebbero, avrei dovuto partecipare all'Isola Limane, le varie circuiti cittadini ma sono stati annullati. Probabilmente parteciperemo alle gare di RRC, quindi Austria, Germania, Repubblica Ceca, sempre sui circuiti cittadini. Poi probabilmente faremo qualche tappa nella velocità in salita e in qualche campionato in pista, giusto per metterla a punto per la stagione prossima, sperando che si possa correre al TT e alla Northwest. Quindi ci rivediamo a fine campionato per sentire dalla tua viva voce e qualche esperienza con la trofeo sia arrivato. Ciao!